allora già che stiamo parlando di moto zappe e zappe io vorrei ricordare che ci vuole tanto lavoro per fare un po di verdura innanzitutto ma poi soprattutto che a novembre il giorno 9 novembre facilissimo da ricordare nove novembre 2019 quanti nove ci abbiamo un festival delle chitarre qui a geneva al crazy bull con riccardo zappa già che parliamo di moto zappe pioleggi ferrari attilio zanchi fabio mariani e ovviamente mauro di domenico spero di aver dimenticato qualcuno e niente va bene mi raccomando intervenite numerosi perché insomma è dura la vita del contadino